Al venditti di Gambatesa arriva la prima sconfitta per la capolista Termoli, una buona partita per i padroni di casa della polisportiva Gambatesa che si difendono e provano a ripartire, ma passiamo alla cronaca del match. Al diciannovesimo arriva la prima occasione per la squadra ospite, pallenare a Ginovese liscia, trotta prova il tiro, debole blocca Iacovelli. Al ventitresimo ci prova la polisportiva Gambatesa in ripartenza, Salino dentro per Di Virgilio che tira, para bene Ferraro in uscita. Al trentesimo succede quello che non ti aspetti, cioè il Gambatesa in contropiede va in vantaggio, lancio lungo del portiere Di Virgilio spizza il palone per Salino che dalla tre quarti vede Ferraro fuori dai pali e lo punisce con un gran gol che si insacca alle spalle del portiere. Non succede più nulla nel primo tempo, passiamo alla ripresa dove Termoli vuole andare subito a trovare il gol del pareggio, ma viene punito dopo 30 secondi dalla Gambatesa, lancio di Salino per Polzella che al limite l'area di rigore si gira, diagonale che si insacca alle spalle di Ferraro per il 2-0. Al nono prova a rispondere il Termoli da calcio d'angolo, cross di Rinaldi, amorosa allontana, Succhiarella che prova dal limite, Jacovelli mette in calcio d'angolo, aiutato anche dal palo. Al quindicesimo arriva il gollo che accorcia le distanze dell'Aquila dentro su Rinaldi, Jacovelli sbaglia l'uscita, Rinaldi la tocca con la punta e scavalca Jacovelli per il 2-1. Al trentaduesimo pallone dentro di perdono per Trotta che incrocia il destro, Jacovelli in spaccata dice di no. Al trentaquattresimo c'è una triplice occasione per il Termoli, calcio di punizione battuto veloce, in area di rigore Montichiari tira, Jacovelli ancora una volta miracoloso. Batte veloce anche il fallo laterale, ancora per Montichiari che dal fondo parte il tiro, palla che si spegne all'angolo opposto tra palo e rete, gol del pareggio. Ma il pareggio dura solo due minuti perché la gamba tesa va di nuovo in vantaggio, Polzella riceve in area di rigore, sembra fermarsi ma poi si gira. Sinistro a scavalcare di nuovo Ferraro e palla che si insacca per il 3-2. Da qui in poi è un assedio per il Termoli che cerca almeno di pareggiare l'ultima occasione, arriva al 42esimo. Ma ancora una volta bravissimo il portiere del gamba tesa Jacovelli a dire di no alla squadra ospite. Al 90esimo arriva il trebice fischio da parte di Salvati tra le proteste e della squadra del Termoli. Dopo 5 minuti di recupero al termine, il Termoli non ci sta a questa sconfitta e si accende anche un piccolo capannello davanti all'area di rigore mentre il gamba tesa festeggia con i propri tifosi questa importantissima vittoria. Grazie. Grazie. Grazie.